Forse sono già chiesto, allora un primo tempo ad alti livelli, anche un secondo tempo con quella voglia di vincere, di conquistare l'intera posta in pari. Il Sant'Agato lo sapevamo, comunque è una squadra che non concede nulla. Questo pareggio è un buon risultato, ma peccato perché si sono persi due punti. Sì, sicuramente giocando in casa noi aspiravamo e abbiamo giocato per vincere la partita, però con il seno del poi possiamo dire che non abbiamo nulla da poterci rimproverare per la splendida prestazione che la squadra ha fatto. Per il primo tempo è giocato veramente ad alti livelli, dalle due squadre, ma soprattutto dal Canicati che ha creato 3-4 palle con l'imbide, è riuscito a sbloccare il risultato. Poi nel secondo tempo, forse ingosciamente, dopo aver subito il pareggio e essere rimasti in vantaggio di uomini, praticamente il Sant'Agata ha avuto due espulsioni, forse ingosciamente abbiamo pensato che la partita sarebbe diventata, tra virgolette, facile. Quindi non abbiamo avuto quel pizzico di cattiveria per riuscire a realizzare i gol che potevano consentirci di vincere la partita e che le azioni le abbiamo create, quindi situazioni che si sono create per poco non sono state concluse in rete. Analizzando la partita, a parte quel gol che è stato una sorta di autogol, ma Iacono comunque c'era, era lì, il tiro è stato forte, a prescindere da quel gol che è stato preso, comunque sono state tante occasioni che purtroppo non si sono concretizzate. Sì, possiamo definire il gol che abbiamo subito un gol casuale, perché il Sant'Agata fino a quel momento non aveva mai calciato in porta. E quindi, peraltro, è stata forse l'unica azione degna di nota del Sant'Agata in tutta la partita. E quindi, diciamo, ci può stare, peraltro, la difesa del Canegatino, la difesa che nel corso dell'anno 2018 era stata la difesa migliore d'Italia, giudicata dalle statistiche fatte dai vari quotidiani. Iacono non subiva gol da 785 minuti. Sì, 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 era un piccolo, tra virgolette, record che stavamo inseguendo, ma nulla di che. L'importante è quello che rimane, oltre alla splendida prestazione della squadra, devo dire anche una splendida cornice di pubblico ieri al Saraceno di Ravanusa, con il tutto esaurito, con il pubblico che a fine partita ha applaudito la squadra, ambe due le squadre, perché c'erano pure dei tifosi del Sant'Agata che sono venuti e hanno visto la partita. Quindi, devo dire, è stata pure una bella giornata di sport, che gratifica, insomma, anche la società per quello che stiamo facendo. I tifosi del Sant'Agata hanno avuto la possibilità di venire ieri a vedere la partita. Forse i tifosi del Canicati domenica non potranno assistere al derby Licata. Canicati al Dio Liotta. Questo purtroppo è una situazione che si potrà verificare, perché, come sappiamo, le partite che ci vedono protagonisti tra noi e Licata vengono fatte nelle ultime partite senza il pubblico della squadra ospite. Certo, per noi, a prescindere da quello che sarà, diciamo, la comunicazione da parte della Prefettura, sarà una partita di grande, come dire, impegno, di grande possibilità. Insomma, una partita che ci permetterà di confrontarci contro la prima in classifica. ieri Licata ha vinto, ci ha distaccato di due punti, di tre punti complessivamente. Quindi sarà una bella partita, una bella partita. Siamo così in ansia, già siamo in trepidazione per prepararla. Dottoranamente ci saranno tutti, a quanto pare, insomma, tranne Vittorio Caronia, tutti rientrano alle squalifiche. Ieri, mi pare, insomma, non ci sia stato qualcuno dei diffidati ammoniti. No, mi pare che dei ragazzi diffidati non c'è stato nessuno che ha preso ammonizione, quindi, da un punto di vista di squalifiche, saranno tutti disponibili e quindi saremo nelle condizioni di poter preparare al meglio questa trasferta, che precede quella che poi sarà il mercoledì successivo, la finale di Coppa Italia contro il Marina di Ragusa. Quindi un impegno che ci vede da qui nei prossimi dieci giorni, nove giorni, impegnati a 360 gradi tra società, staff tecnico e giocatori.